Sono cresciuta in una comunità che fa accoglienza di immigrati. Una mattina in classe la prof ci dice di prendere fuori il quaderno delle comunicazioni. Stanno organizzando una raccolta fondi perché il papà di un'alunna ha avuto un incidente sul lavoro e non c'è più. Chi è? Chiediamo subito. La compagna è Ines. Ines? Come la figlia di Abdul. Abdul ricordo la penna che scorre sul quaderno come per tenermi aggrappata a qualcosa di vero e i pensieri che, no, non si fermano, corrono veloci come il cuore. Abdul lavorava in fabbrica. La manica della camicia gli si era impigliata nella macchina e lo aveva trascinato dentro. Ancora non riesco a capire, ancora non riesco a piangere. Ho solo un gran vuoto dentro. L'anno scorso ho incontrato Ines. Per caso. È diventata una ragazza bellissima, la pelle olivastra, il sorriso bianco, raggiante, gli occhi scuri di suo padre. È lei a riconoscermi. E io penso a suo padre, a tutti i padri, a mio padre. Avrei voluto raccontarle un padre. Non so se Abdul non avesse capito qualcosa in italiano, magari gli avevano spiegato come stare attento. Forse l'avevano spiegato troppo in fretta, forse era stanco, forse è stata solo sfortuna. Ma esiste la sfortuna quando si tratta di sicurezza? Io so solo che ho voglia di telefonare al mio papà. Ora. Grazie. 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 Grazie.